Scampoli minimi di normalità. Prova a regalargli lo sport o almeno una parte di esso in questo momento di apprezzione per l'evolversi dell'emergenza coronavirus. Ci prova la pallacanestro, ma solo quella di Serie A1, A2 e Serie B, a offrire segnali di una normalità comunque sconvolta dal virus Covid-19. Si torna in campo ma a porte chiuse e con regole rigide per atleti e i pochi dirigenti ed accompagnatori che potranno entrare nei palazzetti. Torna in campo in Serie A2 il Sansevero che chiude la prima parte di stagione regolare ospitando Piacenza. Non sarà una gara come le altre e non tanto perché in palio ci sono punti preziosi per la salvezza diretta o per l'accesso ai play-off. Quelli sono ragionamenti che comunque andranno completati dopo la fase ad orologio. Sansevero affronterà in trasferta le tre squadre del raggruppamento Ovest che la precederanno in classifica e in casa le tre sempre dell'altro girone di A2 che la seguono. Sarà una gara particolare nella quale si tornerà a respirare un po' di normalità in una situazione di emergenza e a rendere ancora più difficile lettura la gara di domani pomeriggio, palla 2 alle 18 e l'avversario perché la squadra del Piacenza arriva dall'epicentro dell'emergenza coronavirus e quindi giocatori tecnici e dirigenti hanno vissuto in prima persona le restrizioni della zona rossa. Così anche per gli avversari del Sansevero. Quella di domani sarà una gara per ritrovare un briciolo di normalità provando a concentrarsi ma non sarà facile solo sull'aspetto agonistico della sfida che verrà trasmessa in diretta dalle 17.50 sul nostro canale 178 del Digitale Terrestre e in differita domenica sera alle 23 circa su Teleregione.